Siamo soddisfatti perché per la prima volta viene data una sospensiva e quindi per noi è fondamentale. Abbiamo già avuto delle buone indicazioni, attendiamo con fiducia nella serietà del nostro lavoro e con fiducia nella Corte dei Conti l'esito definitivo del 7 marzo. Possiamo dire che oggi siamo ancora più solidi e forti di prima e più credibili grazie a una grande squadra sostenuta da una grande avvocatura ieri a Roma. Quali ripercussioni avrà sulle politiche economiche del Comune? Estremamente positive, faccio solo un esempio. In questo anno completeremo tutto lo scorrimento dei graduatori, circa 300 persone. Potrei fare altri esempi, ma soprattutto la dimostrazione della credibilità dell'azione amministrativa, contabile e giuridica del nostro ente. E quindi respingiamo al mittente il fiume di fango che in queste settimane hanno cercato di travolgere un ente che può commettere errori, che deve essere pungolato, che deve essere controllato, ma è fatto soprattutto da persone dalle mani pulite che hanno rimesso in piedi un ente che era morto esattamente sette anni fa.